buongiorno signori cari belli buongiorno hola bagai come va come va signori siamo ancora su youtube siamo ancora con un nuovo video siamo ancora con novità di clash of clans perché stanno arrivando qualche cosa di carino da comprare da sciuppare e poi vi ricordate quando c'erano le sfide fino a poco tempo fa da replicare gli attacchi dei giocatori più forti di clash of clans delle delle varie competizioni ufficiali almeno sono tornate è tornato il nostro incubo signori lasciate un bel like iscrivetevi al canale guardate in descrizione che ci sono tutti i nostri social per sapere quando siamo in live quando ci sono nuovi video quando siamo sul sito viola quando siamo su youtube mi raccomando che è importante e utilizzate sempre il nostro code haplo perché se volete comprare le offerte di oggi magari ricordatevo di farlo prima scrivere haplo bene andiamo sul gioco e vediamo un po tutto quello che c'è da dire eccoci qua eccoci qua quindi signori io ho spostato qua subito un personaggio che è interessato da tutte queste offerte che sono arrivo in negozio ovvero il warden perché c'è una skin che completerà un set eccola qua sorvegliante delle ombre bellissimo con tutte queste foglie viola il libro magico l'occhio dentro nel serpente della bocca del serpente tutto curato graficamente direi perfetto bellissimo lo scegliamo e andiamo anche a vederlo un po in negozi com'è c'è il libro che si agita carino selezioniamolo si gli scappa via il libro si mette un po volacchiare in giro e poi torna nella sua mano va bene andiamo anche utilizzarlo nel villaggio allora in qualche attacco vai un bel villaggino semplice per lui all'inizio modalità terra va attaccare col suo gufo vabbè il gufo perché sei th 14 ovviamente lo abilitiamo abilitiamo sembra tranquilla vabbè che il villaggio era semplice semplice riproviamo con qualcosa di più complicato stavolta facciamo subito l'abilità l'abilità c'è un dling di quando lo attivi lui brilla ovviamente della sua abilità tutto colorato di giallo ma per il resto tutto normale da vedere anche modalità aerea andiamo intanto in modalità aerea come cambi qua nel villaggio base modalità aerea c'è il libro che vola bello il libro che vola vicino a lui ci sta ci sta proviamolo su questo villaggino qua in fase aerea infatti si vede il libro che vola assieme a lui abilità tutto come prima nulla di differente direi che è una bella skin qualche particolare carino che ci sta assolutamente dobbiamo vederlo anche quando va a ko qua su questo villo qua dai modalità aerea per te subito l'inferno singola che punta il tuo gufo qua ci sono anche un po di difesa aerea oltre che altre inferno singole aspettiamo un attimo che vada un po più all'interno del villo abilità adesso ok ingrandiamo un attimino che così lo vediamo meglio è bersagliato una difesa aerea amico mia tra poco vedremo come ti comporti quando ci lasci le penne il libro gira intorno a lui ci sta e anche lo scettro con l'occhio è tutto agitato va bene mi piace vediamo se cambia qualcosa nell'animazione via terra sempre da qua sempre dall'angoletto via terra adesso sei bersagliato da un po di più di cose abilità vai a far fuori la difesa aerea l'arco x che ti bersaglia vediamo vediamo scheletrine darti fastidio anche in questo caso abbiamo il libro che gira intorno a te e lo scettro che sembra seguirlo lo scettro che sembra seguirlo va bene va bene è carina come skin molto carina però non finisce qua perché sempre nel negozio troveremo in vendita uno scenario a completare il tutto andiamo un po a vedere com'è questo scenario villaggio delle ombre lo selezioniamo eccolo qua mamma mia quanto quanto viola quanto lugubre come si dice cupo però è molto carino c'è il lago qua dove c'è la barca per il villaggio del costruttore tutto viola con le gocce che ogni tanto compare qualche bolla che compare nell'acqua non ho avuto modo di vedere se c'è anche qualche animazione di qualche cosa di diverso per adesso non mi pare non mi pare a parte appunto queste queste bolle queste cose che ogni tanto compaiono nell'acqua da quest'altra parte ci sono un po' di edifici rotti a forma di drago qualche statua qualche scala che sembra quasi un labirinto con le luci e tutto il resto mi piace direi che mi piace voglio andare a vedere da quest'altra zona di qua wow le cascate che escono fuori di lava che escono fuori dalla bocca di questi draghi di teste di drago direi mi sembrano draghi non credo che siano sgherri no? non mi paghiano neanche cuccioli direi più draghi però vabbè abbiamo più o meno capito a cosa ricondurli questo portone gigante con la luce azzurra che si intravede dentro va bene e poi qua sul dietro com'è? un testone gigante di drago veramente questa volta con la lava che scorre giù tutte le luci azzurre che si intravedono dalle varie finestre dalle varie porte dalle varie scale beh 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 carino direi che è molto carino ci sta no? voi che dite? comprerete queste offerte? mi raccomando se lo farete voglio sapere innanzitutto il vostro commento e poi spero spero che andrete a utilizzare il nostro code haplu come vi dicevo signori però adesso dobbiamo tornare alle cose difficili perché sono tornate le sfide quelle toste di clash of clans di replicare gli attacconi quindi andiamo un po' a vedere negli eventi cosa succede eventi sfida delle ombre dimostraci la tua abilità sconfiggendo la base epica di gaku la base epica di psv usando lo stesso attacco di gaku e ottiene il 3 stelle per vincere grandi premi e sembrerebbe che ci da una pozione di ricerca per velocizzare le nostre ricerche oltre a varie risorse ovviamente all'interno del villo questo è il villaggino e questo è l'esercito che abbiamo a disposizione che è appunto lo stesso di gaku come ha fatto gaku a triplare questo villo il buon gaku ha fatto una queen walk a partire da questa zona qua dal laboratorio di ricerca ha mandato anche un blimp sulla zona dell'inferno singola per distruggere appunto questa zona qua dopodiché ha mandato un super bombarolo qua in zona della del mortaio ha mandato il re per attaccare la zona dello scatter ha fatto entrare la queen con un altro super bombarolo all'altezza di questo deposito di elisir e andare a prendersi il municipio il castello e tutto il resto in contemporanea parte con i domatori da questa zona ore 12 insieme al warden e insieme alla champ e va a prendersi tutto il resto del villo così a parole sembra facile io so già che mi aspetteranno tante parolacce tante sudate per cercare di replicare questo attacco e mostrarvi un po' come si fa ci proviamo però ci proviamo allora doppia mongolfiera col dirigibile per la zona dell'inferno singola poi queen con i suoi 5 curatori e lasciamo fare mettiamo anche un maghetto a fare pulizia che ci sta bene capannina quindi che va un po' su arriva il re a rompere le scatole cacciatrice col tempo perfetto direi siamo a cavallo per adesso siamo a cavallo lasciamo la queen scorrere andiamo verso il cannone verso le caserme andiamo con un super bombarolo ad aprire la zona qua e andiamo a piazzare anche il re vai tutto bene tutto bene bravo re che stai andando ad attaccare la zona là prepariamoci con un altro super bombarolo vai il super bombarolo c'è furia abilità del re qua sta andando il castello a rompere le scatole mazziamo una bella veleno per tempo ok qua tutto bene un paio di mongolfiere invisibilità sulla queen con una bella furia anche gelo ok partiamo con i domatori vari partiamo con il warden partiamo con la champ partiamo con qualche pulizia varia abilità della queen una bella furia qua abilità del warden a proteggere altri domatori in arrivo una bella cura una bella gelo una bella cura qua ok la queen c'è ancora la champ cosa sta facendo non lo so io farei anche un po' di pulizia qua sopra perché siamo un po' in ritardino abilità della champ con una furia ok pulizie di goblin in vari arcerini queen 17 secondi il tempo stringe il tempo stringe però potremmo esserci potremmo esserci 10 secondi 10 secondi pulizia finale dai 5 4 3 2 1 si 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 siamo stati anche abbastanza veloci siamo stati rapidi io avevo già ero già preoccupatissimo di non riuscire a farcela però signori siamo riusciti bene le mie esultanze vi piacciono l'abbiamo fatta perfetta e allora un bel like iscrivetevi al canale replicate anche voi l'attacco e ditemi se riuscite il metodo è questo sembra abbastanza facile tra virgolette non ci ho messo tanto davvero non metterò nessun cartellino di dire come 2 hours later 2 secoli dopo non metterò niente perché ci ho messo relativamente poco sono molto soddisfatto dai like iscrizione al canale seguiteci sempre in live utilizzate il nostro code creator APLO ci vediamo prossimi video prossime live ok bye bye ciao 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 Grazie a tutti.